Bernardo è stato un grande poeta del cinema, un cineasta che ha saputo parlare del suo tempo sempre restando lontano dalla cronaca, riuscendo in qualche maniera a raccontare noi stessi senza raccontare il momento, un tocco suo particolare e poi un cineasta dallo sguardo unico, singolare che ha fatto scuola e farà sempre scuola, quindi la sua lezione è immensa e poi è una persona straordinaria, molto generosa Qualcuno ha detto che potrebbe essere proprio Giuseppe Tornatore a portare in vita quel film di cui Bertolucci aveva già finito di scrivere la sceneggiatura Non lo so, non lo so, non credo di essere all'altezza di cogliere la sua specialità stilistica quindi non mi sembra Grazie